buongiorno e benvenuti di nuovo su fotografia professionale benvenuti ciao a tutti ciao e benvenuti lunedì di pasqua e siamo qua su fotografia professionale a parlare di sviluppo di fotoritocco di regolazione dei colori di regolazione dei toni buongiorno buongiorno anche oggi arrosto vine post produzione beati voi i miei pranzi di pasqua devo dire che sono decisamente più frugali ciao a tutti ciao guido grande guido ciao luca ciao gialluca bene bene ciao omar ciao zaira buongiorno daniele un sacco di gente conosciuta come sempre un sacco di amici nuovi bene 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 benvenuti buongiorno allora 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 come va come è andata questa pasqua di clausura qualcuno ha sta affrontando questo periodo con le famiglie quindi diciamo ha passato una pasqua un pochino più tradizionale mettiamola così qualcuno invece come me è isolato e quindi ha passato la Pasqua da solo magari in attesa di poter rivedere gli amici il prima possibile allora ci vediamo anche a Pasquetta yep avete mangiato vi siete nutriti vi siete abbuffati che una cosa che noto che stanno facendo praticamente tutti fin dall'inizio di questo periodo quindi la Pasqua in questo caso non è molto diversa rispetto al resto del mese precedente ok bene bene ottimo bene siamo già tantissimi anche oggi bene mi fa molto piacere oggi puntata che inizia un discorso inconferesco i parenti grande non sono un pochino grandi le pastiglie colorate in primo piano sì in realtà sono delle delle penne le ho comprate per farci delle foto io ogni tanto compro oggetti inutili e sciocchi per farci delle foto mi piacciono le cose particolarmente colorate queste erano buffe perché sono tutte coloratissime quindi credo che le userò per farci poi degli scatti particolarmente intelligenti ok io ti ho perso ieri ti ho perso va bene non c'è problema tanto rimangono registrate poi adesso le mettiamo anche sul portale da solo a ritoccare foto di paesaggio ci sarà modo di vedere la diretta non posso seguire in questo momento certo come sempre allora benvenuti a tutti ciao anche la ragazza dello staff che sono qua sempre pronte come sempre oggi stamattina abbiamo mandato una mail a tutti spero che l'abbiate vista controllata anche da uno spam perché ci sono come tutti gli altri video corsi di post e di fotografia abbiamo rilanciato diciamo così tutti i corsi di fotografia di ritratto con Nicola Montanari Nicola che fra l'altro si è appena collegato è uno dei nostri trainer per quello che riguarda la fotografia è un fotografo professionista che si occupa principalmente di moda di ritratto e di fotografia pubblicitaria e con noi ha realizzato una serie di video corsi sul ritratto veramente importanti sono sei video corsi che vanno dalle basi al ritratto professionale passando per l'uso di una o più luci di flash del flash a slitta scatti in esterno ci sono davvero tante possibilità differenti all'interno di questo range di video corsi quindi controllate la mail perché ce l'avete fra l'altro Nic sta facendo sul suo profilo facebook sul profilo esatto Nic una serie di video molto interessanti di tecnica micro video di tecnica quindi come come fatto un flash come usare un flash a slitta sono cose molto interessanti secondo me e che presto magari trasformeremo anche in una diretta per parlare un pochino di di flash e di uso della luce anche durante queste dirette che sono principalmente dedicate al al fotoritocco ok una reflex entry level per iniziare con lo still life Marco non sono un gran che ferrato sulle macchine fotografiche prova a dare un'idea di budget e magari fotografi professionisti che sono online come Nicola possono darti un'idea io all'inizio non spenderei cifre folli però contemporaneamente almeno sulle lenti un paio di lenti fisse investi qualcosina ok fotografie di still life prodotto con Giorgio Cravero ho cominciato a seguire davvero tanta roba bene bene è un corso che serve tanto anche a me devo dire la verità perché mi piace un sacco bene ragazzi fantastico ok siamo già pronti per iniziare sul profilo personale dice Nicola basta chiedergli l'amicizia perfetto così potete seguire anche le sue i suoi video tutorial sulla fotografia in generale sulla luce in particolare ok benissimo ragazzi allora oggi parliamo di colore in realtà parliamo di correzione toni e colore questa è la prima di una serie di tre dirette perché oggi parliamo di color correction che è spesso un termine utilizzato a sproposito nel senso che per color correction molto spesso si intende dare una color particolare ad un'immagine non è questo la color correction è correzione del colore correzione del colore in questo caso affronteremo anche i toni non è una correzione del colore creativa è una correzione del colore diciamo tecnica ok domani e dopodomani invece facciamo color grading due giorni siamo presi perché affrontiamo le immagini con calma e andiamo a lavorare magari su due immagini diverse ecco la parte diciamo così del color grading è un pochino più creativa perché è un finishing un lavoro finale che viene dato sull'immagine per dargli un gusto particolare mentre la parte di correzione cromatica non è una tecnica ma è una disciplina vera e propria che c'è all'interno della fotografia e che prevede una serie di operazioni differenti ok tutto quello che diciamo oggi e che diremo domani e dopodomani è comunque sempre approfondito nei video corsi di post quindi se le ragazze vi linkano come al solito il link a tutti i video corsi di post produzione ci trovate dentro anche correzione del colore 1 e vari video corsi che comunque trattano la correzione cromatica ok poi mi dai riferimenti di nic nicola montanari e qua lo vedi online fra i commenti ok ciao andrea nel frattempo un sacco di ragazzi di accademia ciao luca ciao elena di nuovo ok allora differenze fra correzione tonale e cromatica allora correzione dei toni e la correzione del chiaro scuro quindi è quello che mi serve per andare a creare una un passaggio tonale ideale nella mia immagine ideale in base a cosa ideale in base a quello che voglio comunicare guida sempre quello di cui abbiamo parlato nelle prime lezioni cioè mi devo chiedere cosa ci devo fare con quell'immagine qual è il messaggio che devo trasferire chi è il soggetto dell'immagine cosa devo far vedere quali sono le cose che devo far vedere quelle che devo invece nascondere un po' allora a quel punto vado a lavorare su due tipologie di contrasto nell'immagine e sono il contrasto tonale quindi la differenza fra luci e ombre il chiaro scuro e il contrasto cromatico cioè il lavoro sul colore per evidenziare più o meno alcune parti si può fare in tanti modi adesso andiamo a vedere magari direttamente l'immagine così facciamo primi cominciamo a lavorare su un'immagine poi vediamo se riusciamo a farne anche un paio allora vi presento passiamo direttamente a photoshop e vi presento un amico benvenuti ecco qua questo è algol allora algol è un pezzo di design celebre del design italiano degli anni 60 e 70 nasce nel 64 da un paio di designer veramente con i controcazzi per usare un termine tecnico e da brian vega che è un'azienda italiana che continua in realtà a produrre e ha sempre prodotto oggetti di un design meraviglioso in questo caso specifico lo scatto che ho fatto io ieri fra domenica e direi ho iniziato sabato fa sabato e domenica questo scatto ha una funzione che è quella di introdurre una storia che poi magari vi spiegherò nelle prossime nelle prossime puntate se ritorniamo su questa immagine l'obiettivo è quello di far vedere ovviamente il design del prodotto di enfatizzare il fatto che questo piccolissimo televisore in bianco e nero un televisore 11 pollici questo piccolo televisore in bianco e nero guarda verso l'alto il suo designer l'ha definito un cagnolino che guarda verso l'alto riscodinzola verso il padrone che è una cosa bellissima secondo me e vi fa capire anche come tutto quello che riguarda l'immagine e il design nasce da un concetto in questo caso l'effetto è un oggetto veramente carino veramente buffo e dondeggiante con questa particolarità di essere rivolto verso l'alto non è dritto è il classico piccolo televisore in bianco e nero che potevamo trovare nelle cucine delle nostre case io da ragazzino ne avevo uno molto simile non lui ma uno molto simile è un oggetto di design fatto in maniera particolare essendo un oggetto degli anni 60 ha una serie di caratteristiche delle quali noi dobbiamo tenere conto primo un colore delle plastiche molto acceso in questo caso è un rosso aragosta particolare secondo delle finiture cromate perché fanno parte proprio di quell'epoca del design ci sono anche nella lettera 22 che abbiamo visto in precedenza terzo linee stondate linee molto morbide e molto stondate il design italiano di quegli anni secondo me ha spaccato il culo a tutto il mondo forse insieme a quello dei paesi nordici a partire dalle tulip di Arno Sarine insomma se vi piace come cosa andatela a vedere ma non vi voglio far perdere tempo parlando di questo ho la radio cubo dello stesso colore è fantastica anche la radio cubo è un altro oggetto di Brion Vega molto famoso bene qual è il punto? io devo dare enfasi al fatto che lui comunque sta guardando verso l'alto verso l'infinite oltre perché quello che mi sono immaginato io è che questo piccolo televisore sia di fatto un cucciolo di televisione un cucciolo di televisione in bianco e nero che da grande vuole diventare una tv a colori e da lì è partito tutto il lavoro purtroppo non ho potuto fare grandi cose perché non posso ordinare oggetti in questo periodo quindi mi sono dovuto arrangiare con del cartoncino del polistirolo e una mensola dell'Ikea che fa bella mostra di sé arrivo eh grazie Nicola ok arrivo con i PSB dopo in questo caso quello che devo fare io è lavorare con i toni quindi il chiaroscuro e con il colore per portare verso il risultato che voglio ottenere allora in questo caso il lavoro col colore già in scatto ha già preso una direzione deve prendere una direzione ed è quella degli analoghi quindi lavorare su colori li abbiamo visti all'inizio su colori simili quindi le parti sature del rosso del cartoncino sono simili alle parti sature del rosso del televisore se non lo sono le andrò ulteriormente ad uniformare quindi in questo caso non lavoro su dei contrasti non ho un fondo a contrasto come per esempio abbiamo qua nel quale il design viene esaltato e il colore dal fatto che il fondo è complementare in questo caso lavoro in un ambiente di analoghi quindi colori simili a quello del televisore per dare più importanza alla forma e di conseguenza al chiaroscuro ok design sono andato anni 60 Lamborghini, Miura e Ferrari Dino sono ancora oggi considerate il miglior auto in fatto di linea sì assolutamente insieme a una certa linea di Porsche e Mercedes sono in assoluto bellissime davvero allora qual è stata la scelta in questo caso? se io tolgo il contrasto cromatico quindi tolgo la potenza della differenza cromatica fra l'oggetto e lo sfondo rimane soltanto un tipo di comunicazione che è quello dato dal contrasto tonale è una scelta è una scelta molto precisa nella creazione nel pensare l'immagine dopo aver fatto le due dirette di domani dopodomani sul color grading faremo due dirette che secondo me sono importantissime che sono una diretta sulla creatività cioè come fare la creatività di un'immagine e una diretta sul concept cioè come raccontare un prodotto attraverso un'immagine e sono due dirette se volete un po' meno tecniche ma altrettanto importanti spero che vi piacciano perché questa settimana ci dedichiamo proprio a quello ditemi se vi fa piacere in questo caso quindi avendo scelto di lavorare solo con i toni già in scatto io vado a costruire una serie di differenze tonali che per me sono fondamentali vi faccio vedere rapidamente il montaggio allora partiamo da un'immagine di base che è questa che è il primo scatto il primo scatto è illuminato solo da davanti poi a questo viene aggiunto uno scatto con un cartoncino nero per togliere la riflessione della linguetta rossa qui sotto la linguetta rossa non è altro che il pezzo di cartoncino che è stato tagliato dal cerchio poi viene aggiunto un altro pezzo che è illuminato con un cartoncino messo in questa posizione per dare spessore alla parte del vetro e dargli anche importanza far vedere comunque che è un vetro a specchio che è una plastica in realtà a specchio poi la cromatura del filetto sotto la schiarita del televisore e un'ulteriore schiarita nella parte superiore quindi questo diciamo che è il lavoro per quello che riguarda il montaggio poi ovviamente ci sono le correzioni che mi permettono di tagliare il fondo ad angolo di fare il ritocco per drizzare un pochino il cartoncino perché tendeva a crollare un po' verso il basso e contemporaneamente mettere lo spessore in polistirolo avrei voluto avere un poliplat ma non ce l'avevo e ho dovuto lavorare con quello che avevo in ufficio in questi giorni a questo aggiungiamo la separazione in questo caso che mi permette di sistemare le ultime cose e di aggiustare i difetti a questo punto grande idea per le prossime dirette grazie a questo punto si va a lavorare su la gestione dei toni per riuscire a rendere al meglio l'oggetto e contemporaneamente per eliminare dominanti che comunque sono presenti nell'immagine ok bene allora mi fermo un secondo provo a rispondere alla domanda se salvo un psv di photoshop con tutti i livelli di elaborazione sul mio mac calibrate e profilate poi lo riapro sul mac di un altro collega sempre profilato dovrei vedere lo stesso risultato perché non mi risulta sto sbagliando qualcosa allora dipende sicuramente dalla qualità del monitor oggi parliamo di colore una delle altre cose che avevo messo qua era questa era una guida colori di pantone ecco un monitor di qualità differente rende un colore differente un monitor calibrato e profilato con una situazione di luminosità all'interno di un'azienda rende un colore differente rispetto a un altro due monitor identici profilati possono dare un colore leggermente diverso la gestione dei profili colore del monitor del tuo collega può dare dei risultati leggermente diversi sono molto diversi io mi preoccuperei parecchio per esempio in questo momento sto lavorando con sopra la testa dei pannelli led cioè il classico controsoffitto nel quale i neon sono stati sostituiti con dei pannelli led a gradazione kelvin da sole per capirci perché facciamo correzione cromatica dalla mattina alla sera vorrei cercare di mantenere la stessa luminosità con le finestre aperte o meno sono solo io che vedo sfocato aumenta la qualità del video in basso a destra in facebook io non mi rendo conto se ci sono dominanti da eliminare se non sono estremamente vistose è una questione di occhio allenato lo andiamo a vedere come si fa proviamo a farlo considerate che comunque io sto registrando le dirette a una qualità diversa rispetto a quella di facebook e quindi le dirette soprattutto le ultime delle ultime dieci direi e anche queste quelle di questi giorni saranno caricate a una qualità maggiore ora quello che devo fare è questo intanto rendere alcune cose che sono belle di questo televisore come per esempio queste cromature sono plastiche ma sono comunque delle belle cromature devo togliere delle dominanti guardiamolo bene insieme e vi faccio vedere delle cose questo nero è uguale a questo al di là del fatto che sono due oggetti diversi questa è una mensola laccata classica dell'IKEA e qui abbiamo delle plastiche che sono abbastanza simili qua invece ho delle tendenze diverse come faccio a capire quali sono le tendenze? lo posso fare o col pannello info che è comunque molto comodo o andando a vedere i colori direttamente nel selettore colore campiono e lo guardo e qui ho una tendenza verso il blu avrei detto che era giallo quindi incredibile ma vero ma la tendenza della mensola è verso il blu e non verso il giallo quindi fate sempre un controllo matematico delle cose guardate i dati lab vi ricordate lab 1 quindi c'è un po' più di rosso meno 3 quindi c'è un po' più di blu rispetto al giallo ok bene qui in quest'altro punto ho una dominante totalmente sparata verso il viola qua un po' meno poi qua sempre di più si vede anche che c'è del viola qua e non è dovuto alla luce perché io ho utilizzato dei flash fra l'altro ho utilizzato dei flash pro foto di una discreta qualità diciamo con dei cartoncini completamente bianchi o dei piccoli poliplat per fare le riflessioni sono completamente bianche è il televisore che è fatto così quindi un po' di quella dominante ce l'ha ok allo stesso modo una dominante qui tendente invece quasi quasi desatura però tendente un po' più a rosa anche se avrei detto che era verde e qua di nuovo torno al viola ok è proprio la plastica che dà questo effetto ok in generale comunque il modo migliore la mensola mi sembra gialla a sinistra e blu a destra la mensola è blu a sinistra e blu a destra con una differenza che mi dice che è più blu a sinistra che a destra quindi attenzione perché il nostro occhio viene spesso ingannato dai colori che ci sono intorno molto spesso è terribilmente ingannato dai colori che ci sono intorno vi faccio una domanda questo rosso secondo voi è più tendente all'arancione o a rosa la riflessione dipende anche dal rosso dello sfondo e del televisore allora questa è la plastica perché questa riflessione è un pannello bianco cioè gli è stato messo davanti un pannello bianco poi è chiaro che l'ambiente è un po' inquinato dal rosso certo questo rosso che io credevo fosse quasi arancione ha invece una preponderanza di magenta rispetto al giallo e io avrei detto esattamente il contrario quindi l'ambiente inganna il nostro cervello io penso che questa mensola sia gialla perché qui sopra ho un nero che è tendente al viola e vedo questa in maniera leggermente diversa ok l'occhiometro si misura con l'occhio ecco l'occhio non è affidabile perché io vi dico ve lo dico molto onestamente per l'esperienza che ho e per il tipo di lavoro che faccio mi hanno sempre detto che ho una percezione del colore incredibile quindi vedo le dominanti anche quando è molto difficile qua era evidente che era viola la dominante ma qua avrei detto che era verde la dominante e invece ho una dominante che è rossa pochissimo è praticamente neutra ma è rossa e tenete al magenta ok quindi una volta fatta questa piccola analisi per quello che riguarda i colori io devo fare alcune cose la prima è mettere in evidenza come abbiamo detto alcune cose come ad esempio proprio il filetto cromato quindi schiarirlo un pochino devo fare in modo che l'attenzione cada sul televisore in questo momento quest'area è troppo importante quindi io voglio vignettare un po' per portare l'attenzione sul prodotto altrimenti l'attenzione è tutta sul rosso lo sarà comunque sarà molto forte ma io posso portare l'attenzione sul rosso quindi vado a fare una correzione tecnica in realtà perché mi porta a dare attenzione alle cose che mi interessano di più l'altra cosa che farò sarà andare a togliere un po' di dominanti questa volta cromaticamente nelle parti viola della televisione e infine visto che voglio dare l'idea che lui sta guardando verso questa parte illumino un po' lo schermo ok yep bene occhia una cosa ragazzi il pannello rosso inquina il televisore fino a un certo punto perché questa riflessione questa riflessione è la riflessione di un pannello completamente bianco ok quindi il rosso inquina fino a un certo punto queste plastiche sono leggermente tendenti al magenta non sono perfettamente pulite quindi se fosse un problema del pannello rosso allora anche questo sarebbe inquinato e invece tende al blu quindi lo è fino a un certo punto ok andiamo a vedere per esempio i neutri qua che sono inquinati dal rosso questo sì sono inquinati dal magenta in realtà c'è un po' di viola ok però c'è più blu di quanto avrei creduto perché perché probabilmente il pannellino bianco commesso di riflessione ha interagito anche con i rossi ma quel filo rosso sul controllo dello schermo è un po' troppo forte in realtà io l'ho lasciato è una scelta è lo spessore della plastica è un filo che tende quasi al nero a me piace molto e ho scelto di lasciarlo però lo puoi rendere sicuramente più neutro ok vediamo la prima cosa che faccio è andare a fare il lavoro prima di tutto sui toni quindi il riflesso rosso della parete nella cornice nera lo togli no per adesso no poi se volete lo potete togliere ma vi faccio vedere com'è togliendolo e lasciandolo in modo che facciamo delle prove e vediamo qual è il lavoro migliore allora prima di tutto devo andare a lavorare sui toni dell'immagine quindi andare a fare quella sorta di vignettatura che mi permette di avere il televisore un po' più protagonista questa vignettatura non deve includere la tv ok quindi vado a creare qua io l'ho spenta la mia correzione cromatica e tonale che ho già fatto vado a creare prima di tutto un livello che mi permetta di chiudere un pochino lo posso fare con le curve o lo posso fare con i valori tonali in questo caso facciamo una curva prima avevo fatto valori tonali vado a chiudere un po' ok in modo da creare una vignettatura sull'esterno è ovvio che questo rischia di provocarmi un'ipersaturazione piuttosto spinta ok quindi devo stare molto attento ho la mia maschera e la vado a la mia il mio livello di regolazione che chiamo vignettatura lo potevo fare ripeto con valori tonali senza nessun problema e lo vado a mascherare quindi vado a lavorare sulla maschera con il nero in primo piano e vado a fare una serie di maschere la prima maschera che faccio è una maschera radiale qua per andare a liberare la tv ok la faccio un po' più larga perché voglio comunque che si veda anche questa bolla di luce che c'è e poi posso con un'opacità più bassa farle anche un'ancora più larga quello che succede è questo ok ho vignettato anche troppo e anche troppo forte però ho incominciato a dare un po' vediamo in luminosità com'è già in luminosità è meglio perché è meno saturo e quindi in questo caso scelgo eventualmente di metterlo proprio in luminosità perché mi dà meno saturazione ok guarda guarda caso me lo proponete è fantastico quando faccio una cosa e voi me la proponete immediatamente dopo in realtà prima ok adesso ho fatto questa cosa la devo concludere nel senso che voglio tutto il televisore abbastanza pulito non voglio che diventi troppo scuro quindi posso andare a lavorare anche facendo delle micro aperture qua ma mi sembra d'averlo ormai ormai aperto tutto ok poi un'altra cosa che vado a fare è liberare lo sfondo da questo ho già una maschera dello sfondo la vado a invertire e qui vado a fare una grossa invece radiale per andare a liberare la parte diciamo così ho sbagliato perché ho ancora l'opacità al 50% ok partendo sempre dal televisore come centro vado a fare una radiale che mi liberi questo bordeaux sullo sfondo che mi mantiene un colore diciamo così familiare su tutta l'immagine ok quindi ho chiuso l'attenzione verso il soggetto in modo che diventi ancora più importante posso abbassarla un po' se è troppo forte ok un'altra cosa che vado a mascherare qua è questa linguetta vedete che la linguetta non è tanto diversa dal resto si perde un po' e invece è un po' è come se lui avesse sfondato questa quinta rossa per farsi vedere di più e quindi io lo voglio far vedere questa cosa fra l'altro ci ho messo un sacco di tempo a tagliarla bene quindi la voglio far vedere quindi vado a mascherare di nuovo per essere sicuro di avere una maschera di qualità e da poter modificare vado a raggruppare questa curva in un livello e aggiungo un gruppo così la maschera sulla linguetta sarà staccata dalle altre vignettature e potrò modificarle indipendentemente questa è una maschera su una maschera quindi un gruppo mascherato e anche questo lo chiamo vignettatura e lingua ok ho già fatto i tracciati una parte almeno ho il tracciato della parte esterna della lingua lo vado a sistemare velocemente con una selezione quindi aggiungendo un pezzo di selezione un po' più basso ancora ok così ho la selezione della lingua ok vado anche qua basta veramente poco a liberare tutto il resto in modo da avere una selezione che prenda soltanto quello che mi interessa con un lazzo in questo caso in realtà una da aggiungere no dove andare a togliere scusate ho fatto un errore allora ce la possiamo fare scusate eccolo qua adesso inverto la selezione command shift i ok bene e ho la mia linguetta nascondo la selezione faccio un command h e vado con un grande pennello a lavorare sulla maschera un pennello molto sfumato quindi con durezza zero vado a lavorare sulla maschera per riportare diciamo visibile una linea di luminosità poi con un flusso al 10% faccio un altro giro qui sotto ok e col nero magari chiudo leggermente sopra perché forse si è aperta troppo ok questa ulteriore maschera mi permette di illuminare la linguetta e di dare più profondità all'immagine quello che ho fatto con un livello e due maschere e dare più maggiore importanza al soggetto e più profondità poi se volete posso aumentare la vignettatura da questa parte posso fare un sacco di cose ok questo semplicemente per dare tridimensionalità e dare più importanza a lui quindi tolgo importanza a quelle cose tipo quest'angolo questa parte che hanno dei dettagli molto contrastati e che io non voglio che vadano a inficiare l'attenzione sul soggetto contemporaneamente do più tridimensionalità alla linguetta che se era un po' persa ok fino qua tutto bene bene poi altra cosa che devo fare vado a dare luminosità e importanza a questa parte qua vediamo se ho fatto il tracciato credo di no non sono stato così bravo ho fatto il tracciato dello schermo però ok quindi ho il tracciato dello schermo vado a lavorare all'esterno quindi inverto la selezione e vado a lavorare fuori dal gruppo con una valori tonali valori tonali che mi permette di schiarire ok adesso vado a fare la maschera completamente nera poi richiamo la selezione di prima lavoro all'esterno e vado a lavorare proprio solo sulla linguetta io sto sfruttando diverse maschere che ho già fatto quindi qua vado a schiarire il flusso al 100 se faccio macchie dopo le correggerò quindi vado semplicemente a schiarire questa parte di cromo e anche quella sotto in modo che si capisca che è metallo e che non è plastica nera perché comunque le plastiche in questi televisori sono usate tantissimo ok una volta che l'ho fatta l'ombra della linguetta non è troppo forte in realtà è nera come questa si potrebbe schiarire un po' si si non è un problema se vuoi la schiarisci ma ti dico di più se volessi la mia è una scelta se volessi un'ombra della linguetta più leggera ho nel montaggio delle cose tipo questa in cui l'ombra è più leggera quindi posso andare a montare una parte in cui l'ombra è più leggera già di partenza io ho fatto una scelta vedete che qua c'è il cartoncino che è quello che riflette all'interno della schermata io volendo ho delle ombre anche chiarissime quindi è una scelta nel mio caso specifico mi piaceva l'ombra molto dura non molto dura molto intensa ok però si può fare come prima cosa hai fatto i prezzi dei singoli pezzi in realtà non tutti ne ho fatti solo una parte solo quelle che mi servivano ok adesso ho fatto la mia schiarita con il mio livello scusate vado a riaprire tutti i livelli ok ho fatto la mia schiarita con il mio livello questo qua però ho fatto ovviamente delle macchie parte che posso schiarire ancora ok vado a togliere le macchie dovrei avere un tracciato no 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 ok niente non ce l'ho e quindi lo vado a fare così imparo vado a fare un tracciato velocissimo che mi permette però di tagliare questa parte e di andarla a ripulire quindi vado a fare un tracciato qua che prende proprio la parte della linguetta della tv si vede che questo non è uno scatto fatto con un medio formato perché c'è meno dettaglio del solito ce n'è abbastanza è perché ce n'è abbastanza però ho dovuto scattare con una lente ho dovuto scattare con quello che avevo quindi con una lente che non è un'ottica fissa e di conseguenza ha una qualità del dettaglio inferiore e quindi diciamo che poteva essere ancora più bello qualitativamente ma facciamo quello che si può poi sapete che non sono un fotografo quindi faccio quello che posso ok qua faccio velocemente questo tracciato vediamo se abbiamo domande ok ok vado parliamo di correzione colore e io vado sempre a fare dei tracciati perché perché i tracciati sono comunque quando ho fatto un lavoro tecnico una cosa fondamentale necessaria e che non vi togliete ragazzi è da fare comunque c'è niente da fare non ne uscite i tracciati vanno fatti ok la segretatura del bordo del foro l'hai ricostruita da zero hai lavorato di pulizia no no il bordo non avendo a disposizione poliplat il bordo è fatto di polistirolo fa schifo e quindi l'ho proprio ricostruita da zero l'ho ridisegnata allora bordo esterno cromo ok vado a richiamare la selezione e una volta che ce l'ho vado a riempire semplicemente di nero per togliere quella linguetta altro livello altra schiarita qua è un po' troppo forte sotto quindi cosa faccio sotto mi basta passare la metto in un gruppo anche questa faccio sempre le modifiche alle maschere sempre su una maschera separata perché questa adesso che l'ho fatta mi serve pulita a parte che adesso ho notato che c'è un errore quindi proviamo a vedere di fare un'intersezione ho fatto un'intersezione fra le due selezioni ok vado a prendermi a questo punto soltanto quella che mi serve cioè questa parte qua e vado qui dentro a pulire con il bianco in modo che sia tutto uguale ok così tolgo le macchie ok adesso vado a ridurre qui sotto lo faccio con una pennellata di nero su una maschera ulteriore pennellata maschera che poi andrò a abbassare di intensità e mi permette di regolare la luminosità della parte sotto cromata ok quindi anche qua due livelli in realtà di regolazione con due maschere diverse abbiamo fatto prima di tutto tridimensionalità seconda cosa luminosità della parte cromata lo potrei fare con tutti gli elementi mi metto lì e li scontorno uno per uno ok posso andare a illuminare di più la plastica qua se voglio un rosso più intenso e più vivido nel caso specifico adesso mi occupo della luminosità della parte centrale della tv qui ho fatto il tracciato lo vado a sfocare leggermente perché non è netta vedete quindi devo andare a sfocare leggermente anche qua che è un pelo più netta però non lo è al 100% se la sfocatura di questo bordo è più sfocata di qua che da questa parte faccio prima una maschera netta e poi la sfoco dopo e vi faccio vedere come come al solito vado a creare un livello di regolazione valori tonali anche in questo caso vado a schiarire ok dopodiché faccio due operazioni sulla maschera deseleziono prendo lo strumento sfumino faccio un giro bello raddoppiato da questa parte in modo da sfumarla come era sfumata prima così evitate anche righe spesso questo strumento che sembra uno strumento vecchio e inutile in realtà vi aiuta a risolvere un sacco di problemi di solito i fotomontaggi e le regolazioni sono visibili quando avete un bordino visibile questo vi aiuta a toglierlo ok e ho illuminato la parte centrale della tv che però non voglio lasciare così tutta illuminata anche qua raggruppo metto una maschera sopra e faccio una lieve sfumatura dall'alto perché effettivamente da qua è illuminato di meno ok quindi faccio una lieve sfumatura dall'alto ho sbagliato sfumatura quindi maschera bianca ho fatto una radiale non voglio una radiale ma voglio una lineare dall'alto ok meno più parto da lontano e più riuscio a essere delicato quindi mi allontano per avere una sfumatura più delicata e così ho inserito anche la luminosità all'interno della tv col mio piccolo algol che guarda verso l'infinite oltre ok adesso sono pronto per la parte cromatica cioè l'azzeramento delle dominanti prima nella mensola sotto e poi nel televisore sopra ok a zerare completamente una dominante vuol dire però rendere l'immagine molto finta quindi quello che faccio è questo ho la mensola ce l'avevo qua perfetto ho la mensola vado a fare il mio primo lavoro questi sono toni adesso sto incominciando ad andare nella parte invece cromatica quindi vado a fare il mio primo lavoro lo faccio con tonalità saturazione è già mascherata perché avevo richiamato la selezione lo vado a colorare di blu quindi correzione cromatica e vado a fare questo vado a abbassare la saturazione ma non al 100% al 50% in modo da avere una leggera dominante di questo nero diverso dall'altro quindi questo nero sarà leggerissimamente blu ok mi seguite se avete domande ragazzi fatele adesso vado a zerare le dominanti presenti invece nella tv quindi vado a fare un'altra selezione ho la selezione dello schermo e ho la selezione dell'interno dello schermo che non devo andare a correggere cromaticamente quindi cosa faccio richiamo la selezione dello schermo fatta col tracciato ovviamente alt command tolgo la selezione dell'interno ok attenzione però che erro ho fatto che erro ho fatto richiamando quella selezione è un errore piccolo ma importante ho richiamato la selezione dal tracciato che è netto e invece io l'ho sfumata quella selezione quindi non andrà bene allora riparto dallo schermo intero e la selezione dello schermo la vado a prendere da qua dove l'ho sfocata così sarà precisa mi seguite? ok questa è saturazione mensola e adesso vado ho il blocco maiuscola attaccato pazienza e adesso vado a lavorare sulla in questo caso posso lavorare anche con correzione colore selettiva per andare a zerare i viola ok quindi vado a mettere una correzione colore selettiva avrò la selezione giusta in questo caso vado a lavorare sui magenta e tolgo del magenta vediamo cosa succede direi che già fa un ottimo lavoro già fa un ottimo lavoro perché se io fossi stato costretto avrei dovuto lavorare sui neutri e sui neutri ovviamente oltre a essere molto più forte lavora su tutta la parte neutra delle immagini invece per fortuna in questo caso specifico mi prende molto bene i magenta e riesco ad abbassarli ok li abbasso quanto voglio io non li tolgo completamente perché come vi dicevo è una caratteristica di queste plastiche di avere quella leggera tendenza quindi ne tolgo tanta ma non tutta ok mi seguite bene adesso questa è sempre correzione cromatica ok ho fatto cinque livelli di regolazione e quello che ho cambiato è questo non ho cambiato tanto in realtà non ho fatto un lavoro forzato e troppo sparato sull'immagine anzi abbasso anche un pochino la luminosità della tv che mi sembra troppo forte ho fatto una correzione tecnica di quello che mi serviva ho dato più attenzione a lui l'immagine ha più atmosfera poi magari una mia fissazione ma a me sembra che così sia molto piatta adesso e così invece abbia un'atmosfera una profondità diverse guardate come viene fuori bene il cromo da questa parte adesso la ingrandisco un po' che ce la guardiamo anche più grande quello che è successo è che ho più profondità il cromo è diventato più bello di conseguenza è più prezioso sembra più figo il prodotto se il cromo è più bello è più carico ci manca un pezzettino che io andrei a fare che è questa antenna qua e uso la stessa schiarita che ho per il cromo ma qua mi basta davvero fare un lavoro velocissimo con un pennello mi metto qua col pennello tengo il bianco in primo piano tengo premuto shift e vado a schiarire semplicemente l'antenna e volendo a togliergli delle dominanti che tanto qua non dovrebbe avere sul viola ok bene ragazzi non fate domande quindi io mi fido sul fatto che sia tutto chiaro questa è correzione toni e cromie ok che macchina è usata per lo scatto allora per necessità un XT2 una Fujifilm XT2 con il 140 non mi ricordo se inizia con 45 o cosa comunque con uno zoom che mi permetteva di stare abbastanza lontano e avere meno deformazioni perché il problema sono le deformazioni anche già con l'85 su full frame deforma tantissimo io non volevo deformazioni di linee quindi è un XT2 una Fuji XT2 con un'ottica quindi una macchina relativamente vecchiotta con già qualche anno che però funziona secondo me ancora molto molto bene poi ripeto io non sono un fotografo e ho fatto quello che potevo e questa questi oggetti in mano a Giorgio Cravero o a Nick darebbero dei risultati diversi però mi sono divertito allora vi dicevo guardiamo un attimo i rossi l'antenna potrebbe anche scudinzolare come la coda del cane qua dietro io non ce l'ho messa ma volendo anche l'antenna rotonda che è meravigliosa che è un filetto d'acciaio bellissimo veramente bello allora il rosso ne abbiamo parlato prima io ho la mia selezione che mi permette se voglio di andare a zerare le dominanti rosse vi faccio vedere il risultato e vi spiego perché a me non piace le dominanti rosse sono vabbè un po' ovunque vado ad aggiungere una correzione una tonalità saturazione e vado a prendere i rossi e li a zero allora al di là del fatto che magari non li azzeriamo completamente li lasciamo così a me sembra più slavato così a me è è una mia sensazione mentre mi piace molto di più con la sua trasparenza perché c'è perché questa è trasparenza e le sue riflessioni quindi ho scelto di lasciare questa parte cromatica importante flash da studio sì flash da studio per l'esattezza intanto vado a controllare un paio di cose non ho fatto dei danni dei profoto B1 in realtà quanti flash me lo dite voi quanti flash grazie per il cambio colore vabbè potrebbe essere blu sì mettiamolo blu quanti flash è semplice molto semplice uno esatto uno un flash un bank se non sbaglio è un 90-120 una roba del genere e un riflesso una riflettente da questa parte in realtà più riflettenti nel senso che poi ragazzi vi sto parlando di fotografia ma io ma dai ma stiamo scherzando vabbè diversi riflettenti nel senso che ce ne sono più di più di Vono qua ce ne Vono per illuminare la parte alta del cromo da qualche parte c'è lo scatto schiarita tv qua qui non si vede ma c'è un pannello in polistirolo per schiarire questa parte qua parlendo di polistirolo infame che mi dà anche delle riflessioni un po' mosse pazienza uno con diversi pannelli di schiarita no lo sfondo lo sfondo si è illuminato da solo con il flash davanti e vedete il polistirolo era così quindi è stato per forza di cose ricostruito se no non era proprio possibile e poi dopo fatti i vari ritocchi del caso ok allora torniamo a noi velocissimamente andiamo a vedere un'altra invece tipologia di immagine quanti flash mai abbastanza la risposta giusta no secondo me invece la risposta giusta sui flash è meno ne usi e meglio è una delle cose che ho imparato in assoluto dai fotografi che se puoi dai professionisti con i quali collaboro è che se puoi fare le foto con un flash solo è meglio meno luci usi è meglio è anche perché di solito soprattutto nel mio caso che non sono un fotografo preferisco usarne poche perché non le so usare tanto bene e sicuramente una alla volta il primo scatto nero primo scatto completamente nero per eliminare completamente la luce ambiente poi il primo flash in che punto era il flash il flash è diciamo inclinato considera che il flash per riflettere esattamente tutta la tendina del flash dentro lo schermo il flash deve essere almeno all'altezza del televisore in questo caso era esattamente dell'altezza del pannello fai conto che il pannello è un 70-100 è più alto di così perché l'avete visto nello scatto originale il pannello in realtà è così ok il bank era alto quanto il alto quanto il televisore in modo da andare a prenderlo tutto dove deve essere il bank per avere il televisore completamente bianco deve rimbalzare geometricamente rispetto alla macchina quindi alla sinistra molto vicino molto vicino perché se vai a prendere la foto originale il bank è qua cioè proprio a filo dell'ingresso perché più vicino è più ho luce morbida e più riesco a dare un'illuminazione uniforme e morbida alla tv ok in che senso il primo scatto nero per eliminare la luce ambiente nel senso che se scatto con dei flash da studio la prima cosa che devo fare è eliminare la luce ambiente quindi imposto la macchina in modo che senza flash il primo scatto sia completamente nero non ci sia nessuna incidenza della luce ambiente dopodiché aggiungo la prima luce fai molto presto comunque scattando in uno studio anche con le finestre aperte io scattavo non mi ricordo a quanto però sono a f16 a 200 iso cioè viene nero per forza più vicino ombre più morbide esatto più vicino ho un'illuminazione molto più morbida e di conseguenza anche la riflessione più bella eccetera eccetera poi se io fossi stato un vero figo questo riflesso avrebbe seguito qua magari lo posso fare in ritocco non sono così bravo onestamente ho fatto il possibile mi sono impegnato un po' ho spostato un po' di luci mi piaceva come la riflessione del pannello dava profondità però si può anche eliminare nel senso che non è necessaria questa riflessione di questo pannello qua si può togliere tranquillamente nel senso che posso fare in modo diciamo così che non si veda o si veda meno ok va bene detto questo andiamo a vedere un'altra foto poi per le 17 si accende questa tv e c'è barra barra d'urso in bianco e nero però poi bisogna prendere il canale perché è un po' un casino perché qua si girano le antenne come una volta io ho l'età di quelli che giravano l'antenna per riuscire a trovare il canale vi faccio vedere un'altra cosa molto velocemente in 5 minuti questo è uno scatto completamente diverso è uno scatto moda ok è uno scatto moda scattato da Marco Onofri sul tetto di un posto bellissimo a Parma che si chiama Cubo per un corso in realtà ma con degli abiti molto particolari a me questa pelliccia con l'effetto leopardato fatto dal brand fa impazzire secondo me è meravigliosa e quindi ci sono un po' di cose la correzione è stata fatta piuttosto velocemente c'è una separazione ma molto molto soft adesso ci si è anche dato Photoshop Andrea mi dice adesso si è bloccato Photoshop se si sblocca te lo dico il più rapidamente possibile Andrea mi dice molto bello lo scatto grazie se mi posso permettere non so se è il mio occhio ma la verticale che divide l'inquadratura non è perfettamente verticale verticale giuro non sembra è vero non sembra è dovuto all'inclinazione probabilmente delle varie cose sembra cadere un po' indietro è vero però è verticale su quelle cose lì geometria assoluta perché sennò fa schifo guarda l'immagine dopo hai l'età in cui eri tu il telecomando esattamente 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 allora cosa devo fare qua la prima cosa è chi è il soggetto lei e su questo non ci sono dubbi quali elementi di disturbo ci sono a parte la fede qua a parte Federica qua quali elementi di disturbo ci sono in questa immagine che possono togliere l'attenzione al soggetto cromaticamente e tonalmente partita da un concetto anche se c'è questo punto di vista è perché il fotografo voleva l'antenna se non la scattava dall'altra parte togli l'antenna no l'antenna la lasciamo è lì apposta è lì apposta l'antenna è l'ultima cosa che togliamo se no scattava dall'altra parte ragazzi la schiena troppo illuminata ok grazie Andrea si sulla simmetria e sulle linee sono un maniaco i neri a terra la struttura metallica sulla destra a parte la fede non la togliamo di sicuro se no ragazzi bastava semplicemente tagliare qua o tagliare qua e spostare la modella quindi tutto quello che c'è ha un suo la gru ok si può togliere quella personale dietro la fede ok i tetti rossi l'ombra della modella no è bella i tetti rossi allora quello che ho fatto qua è stato tonalità saturazione togliere saturazione alla parte dietro perché la parte della scritta in basso ha una saturazione fastidiosa e io la voglio togliere ok voglio abbassare quella saturazione sia nell'ombra che nelle lettere che tengono vedete che se va ad alzare la saturazione guardate le case sono arancioni le lettere sono arancioni quindi io tolgo saturazione perché la saturazione deve rimanere tutta su di lei perché ha dei vestiti molto colorati poi vado ad applicare dei valori tonali che schiariscono il fondo perché lei diventa ancora più importante se io tolgo aumento il contrasto tonale in questa zona ok poi vado a lavorare sul colore della pelle poi vado a lavorare sui valori tonali della pelle per dargli maggiore luminosità schiarisco gli occhi questo non mi ricordo cosa ci ho fatto sempre sugli incarnati e poi ho un gruppo di correzione cromatica sui vestiti saturazione e gestione diciamo così dei toni perché è vero che c'è la luce dietro ma quello che non mi piaceva è che era diventato tutto molto piatto quindi ho leggermente acceso un po' le pieghe si potrà far meglio sì è un lavoro fatto abbastanza velocemente ma quello che volevo farvi capire è questo ci sono due tipi di lavorazione per togliere attenzione a quello che disturba potete farlo togliendoli direttamente la gru si può togliere la fede si può togliere fra l'altro credo che banalmente l'esecutivo di sta foto sia così quadrato ok perché è uno scatola social quindi la fede e la gru non fanno più niente non sono più dentro alle nostre preoccupazioni diciamo così perché lo scatto diventa così ma anche se fosse intero si vanno tolti in generale l'obiettivo anche di un lavoro fatto molto velocemente è quello di togliere attenzione allo sfondo che altrimenti è A piatto B molto colorato quei tetti danno fastidio si potrebbero fare anche completamente grigi e volendo vado in tonalità saturazione vado nei rossi e i rossi li uccido quasi completamente adesso sta morendo photoshop perché ho dei file aperti da qualche giga quindi tolgo un po' di saturazione ai rossi non troppa sempre non fate le robe grigie che se non si vede in modo da mantenere la parte diciamo così più satura e più importante dell'immagine su di lei e sui vestiti che sono i protagonisti se io tolgo il gruppo di correzioni l'immagine è più piatta più satura in generale e a me non me ne interessa niente degli alberi e di quello che c'è dietro quindi la cosa fondamentale è lavorare in correzione cromatica e tonale per dare più importanza al soggetto sia cromaticamente che tonalmente se ci sono come in questo caso delle differenze cromatiche devo accentuarle rendendo l'azzurro più uniforme magari anche semplicemente in questo modo ho tutti i miei tracciati che mi amano tantissimo e mi permettono di fare delle cose fantastiche perché ho fatto tutti i miei tracciati adesso vado ad aggiungere una tintunita che prima vado a prendere qua quindi vado a prendere il colore in primo piano qui vado ad aggiungere un livello tintunita è già mascherato gli do ok vado a togliere la parte degli infami toasts qua sopra e la vado a cancellare nella maschera ok dopodiché questo va in colore lo andrò a mascherare ma già mi ha uniformato un po' le cose poi cosa faccio per mantenere un po' di realismo cosa che io faccio sempre ma non è scontata vado a mascherare un po' con un pennello molto grande queste parti laterali dove c'è quel piccolo inculamento di rosa che mi rende l'immagine meno finta ok mi permette di avere un po' di realismo in più ok nel caso dell'immagine precedente mi chiede Vanda con cosa hai schiarito lo sfondo con due livelli di regolazione uno valori tonali l'altro tonalità saturazione valori tonali è quello che schiarisce un po' tutto mi serve per dare contrasto a lei non mi serve perché voglio vedere meno lo sfondo ma è grigio così ok gli do un po' di vitalità anche domanda per la correzione cromatica se voglio aggiungere o cambiare una striscia di colore a un tessuto tra lab correzione colore tonalità saturazione come faccio a far muovere la selezione come il tessuto non ho capito Tommaso allora rileggo la domanda vediamo se mi aiutate anche voi ah poi devo farvi vedere una cosa cavolo mi sono dimenticato voglio aggiungere o cambiare una striscia di colore ad un tessuto tra lab correzione colore tonalità saturazione come faccio a far muovere la selezione come il tessuto allora dipende cioè se io per esempio devo cambiare colore qua vado a selezionare se il colore ha già un tessuto diverso vado a selezionare il tessuto in modo cromatico cioè uso per esempio intervallo colori se vuoi fare una striscia qui è un casino perché è peloso è un macello quindi ti serve una selezione molto attenta forse non ho capito bene però arrivo arrivo anche Roberto allora come hai tolto il tracciato dei toast alla maschera molto semplicemente this is the mask ok questa è la maschera l'azzo con alt premuto diventa poligonale quindi vado tenendo premuto alta cliccare faccio una poligonale diventa una selezione la riempio di nero e sono a posto poi dopo vado a fare quello che ho fatto prima quindi lo metto in colore eccetera 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 una volta potresti fare un discorso analogo su un ritratto ambientato allora una delle cose che facciamo nei prossimi giorni è andare a correggere a fare il color grading su un ritratto che è proprio in uno dei corsi di nick adesso vediamo se riesco a farvi vedere senza fare del casino vediamo non questa non questa queste sono le prossime dirette ragazzi color grading 2 lo facciamo su questo ritratto qua che è un ritratto ambientato ok quindi andiamo a lavorare proprio su questa immagine lavoriamo sul color grading poi andremo a lavorare sulla creatività e andremo a lavorare sul concept per capire come creare un'immagine che trasferisca le potenzialità di un prodotto puoi mostrare la maschera della modella? la maschera della modella è fatta velocissima la maschera della modella è una maschera terribile guarda è così perché non dovevo fare delle modifiche mostruose quindi me ne sono abbastanza fregato c'è forse un po' di sfumatura qua che si nota tornando alla tv di prima come fai a togliere il cartoncino con il riflesso mostrando il retro allora il cartoncino con il riflesso fa solo questo scusate bisogna di togliere un po' di roba prima di farvelo vedere il cartoncino con il riflesso fa solo questo e ha una maschera se io tolgo la maschera si vede il cartoncino maschera ragazzi maschera sullo still life allora in illuminare perfettamente sta foto probabilmente un fotografo con i controcazzi ci riesce io no ho bisogno di fare riflessioni la roba specchio ha bisogno di riflessioni se io metto questo cartoncino ci ho provato non è che non ci ho provato ve lo dico perché ci ho provato e so che non ha funzionato se io metto questo cartoncino fuori dall'inquadratura questo qua non fa riflesso ho bisogno di metterlo dentro il più possibile idem per le schiarite se io voglio avere una schiarita qua della parte della tv ho bisogno di venire molto avanti ok quindi poi dopo li taglio semplicemente maschere assolutamente un fotografo probabilmente con i controcazzi riesce a farlo quasi tutto in scatto io ho bisogno di fare tre foto e metterle insieme assolutamente è proprio ovvio e necessario perché faccio anche prima non vuole un colore piatto ma fa rimanere il chiaro scuro che ci sono nelle pieghe allora attenzione scusatemi ma allora non ho capito chi era mi faceva una domanda prima però Tommaso mi ha fatto una domanda e Antonello me ne fa un'altra chi è che non vuole il colore piatto ma fa rimanere il chiaro scuro nelle pieghe lo scatto della modella fa parte della serie ad altra foto sia nello stesso videocorso che esce fra poco se vorresti fare una striscia blu sulla manica della pelliccia mantenendo le piegature adesso io ti faccio un tracciato al volo poi dopo ci capiamo allora io faccio la striscia blu se devo mantenere le piegature le devo seguire con un tracciato con qualcosa devo dare le onde e sulla pelliccia un macello faccio il tracciato metto sopra un tracciato di lavoro ok clicchiamo la selezione metto sopra un livello tintunita blu lo metto in moltiplica lo metto in colore lo metto in quello che ti pare si vedranno le riflessioni ma se devo far vedere la il bordo con il pelo parte che questo è micromossa quindi è un macello l'unico modo è andare a frastagliare il bordo e in una delle lezioni che andremo a vedere un po' più avanti capiremo come usare i pennelli dinamici per fare il bordo frastagliato e fare in modo che non si veda o che si veda almeno possibile però se un cliente ti dice voglio un pezzo di manica blu in una roba del genere la risposta è bello mio o mi dai un sacco di soldi oppure la riscattiamo non sarebbe possibile avere il file della tv in psd con i livelli in download per scaricarlo e studiarlo allora è un file mio c'è uno scatto mio quindi da un certo punto di vista mi da relativamente problemi d'artelo perché non è un file di un fotografo non amo dare in giro i psd però ci possiamo pensare ci penso dai perché no 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 ho risposta a quello che ah ok affosto scusami la domanda non è assurda comunque ragazzi voi chiedete in alcuni casi sì in altri cioè il file di un fotografo con i livelli però se voi andate a vedere per esempio questo potrebbe essere un esempio sul nostro sito ci sono una serie di lavori di post fatti in una roba che si chiama thursday post sono di qualche anno fa ma ci sono ancora nei quali ci sono sia i file di lavorazione quindi tutte gli step della lavorazione ci sono anche i psd da scaricare quindi perché no potrebbe diventare un thursday post e pubblicarlo magari quando ho finito la serie anche ho un monitor ben più calibrato con i1 stampo con un profilo colore ma le mie foto sono sempre scure rispetto a quello che vedo su photoshop come posso risolvere questo problema può ricontrolla la luminosità dello schermo nella calibrazione quella impostata quando parti con la calibrazione dai una luminosità impostata prova a impostare una luminosità leggermente più bassa occhio dopo la calibrazione a non toccare contrasto e luminosità del monitor se no sballa ci sta che se è una carta soprattutto porosa se non è una carta lucida per capirci una carta matte ma una carta porosa comunque verrà più scuro perché c'è sotto il colore della carta e quindi per quanto tu ti faccio un esempio se io scatto questa foto e la stampo su una carta porosa questi bianchi non saranno bianchi ma saranno grigi più scuri quindi di conseguenza l'immagine viene più scura per forza può dipendere dal colore della carta in ogni caso faccio polemica ragazzi ma perché non provate a divertire con le vostre foto scattate e sperimentate più rieffati più imparerete allora questo sicuramente non è una polemica secondo me è un bello spunto se vi ricordate ieri parlavamo di Far Portfolio io ragazzi sono è vero sono in un ufficio che è l'ufficio di un'agenzia di comunicazione quindi avevo i cartoncini ma è un pezzo di polistirolo una mensola dell'IKEA che ho smontato da qua sopra qui sopra avevo l'amplificatore della Marshall che avevo che ho dietro ce l'ho lì perché ho smontato la mensola e l'ho smontata perché era l'unico oggetto che avevo in ufficio che potesse andare bene se vedete il set come è costruito è una roba allucinante è chiaro che io ho un piccolo studio ma se vi costruite un piccolo studio in garage vi comprate dei cartoncini colorati potete fare quel cazzo che volete sullo Steel Life quindi fate delle foto fatevele come fare varie sfumature che si sono nella stessa maschera Mauro lo abbiamo visto più di una volta te lo faccio rivedere faccio un livello valori tonali ok che vada a schiarire oscurire tutto lo mettiamo sopra allora la cosa fondamentale per riuscirci è che tipo di sfumatura scegli quindi vado a prendere la sfumatura lineare qui in alto non devi scegliere da primo piano a secondo piano se scegli da primo piano a secondo piano quello che succede nella tua maschera è questo tiro una volta tiro la seconda la nulla tiro la terza la nulla se tu invece scegli da primo piano trasparente che è la seconda la prima si somma con la seconda che si somma con la terza eccetera 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 quindi questo è il punto scegliere la sfumatura corretta i monitor sono in ritro illuminati le carte no sì è vero certo il monitor ti dà un senso di luminosità ma se scatti su una carta bianca puoi avere lo stesso senso di luminosità il problema è la carta se la carta è una carta porosa ragazzi non ne uscite a me è successo perché il monitor era molto luminoso e mi sono accorto solo dopo che l'istogramma era praticamente verso sinistra controllatele in generale cioè è stata all'occhio il monitor è molto molto luminoso non dovrebbe essere se è calibrato cioè il monitor dovrebbe essere profilato in modo che non sia molto molto luminoso se avete un portatile Macintosh 5 punti sopra la luminosità massima ok bene ragazzi allora abbiamo fatto un sacco di lavoro anche oggi torno a me stesso ok torno a me stesso per due motivi il primo è salutare quindi il secondo è soprattutto la sorpresa che c'era nell'uovo e uno dice chi cazzo è no? ho chiesto una consulenza a una persona più giovane di me e mi ha spiegato come usarla si rivolta si appoggia qua adesso me la tirerò in un occhio e fa questo ha saltato malissimo però fa questo zompa in maniera indicibile ok mi è finito sulla spalla non so se l'avete visto questa è la sorpresa dell'uovo di ieri il problema su alcune cose è che in alta sinistra abbiamo le scritte dirette il numero delle persone che guardano quindi copre spesso quello che tocchi lassù si ragazzi in ogni caso la seconda delle selezioni in alto ci sono le sfumature la vede nella registrazione ci sarà ok allora ragazzi grazie per l'attenzione per le domande ricordatevi che ci sono tutti i corsi di post in promo ci sono gli zotti in promo trovate tutte queste cose dentro ai corsi di post ok se vi va di incominciare a fare un po' di fotografia di still life anche con oggetti molto semplici anche con le cose che avete in casa con un vecchio tostapane con un oggetto un frullatore quello che avete in casa io il consiglio che vi posso dare è fotografia di still life prodotto con Giorgio Cravero ci mettete le mani sopra incominciate a capire come lavorare con la luce ottenete risultati incredibili molto in fretta e avete i feedback delle persone all'interno della chat che ve lo dicono e poi cominciamo a fare la post di queste cose ok vediamo se ho un po' di domande che ricordi quella faria che salta ecco vedi posso fare una domanda non inerente chi mi può spiegare la differenza tra il corso fashion and portraits e il corso fotoritocco per ritratto 1,2,3 allora i corsi di fotoritocco per ritratto l'1 e il 2 sono corsi abbastanza datati sono infatti in promo a un prezzo veramente infimo il corso 3 è un corso abbastanza aggiornato specializzato principalmente sul ritratto fashion and portraits invece è un corso molto più recente che lavora tanto sulla correzione della pelle tanto sul fashion e anche sul ritratto quindi se ti interessa la correzione pelle a un livello piuttosto alto fashion and portrait tutta la vita se ti interessano tecniche per la correzione del ritratto anche il ritratto 3 secondo me ha delle cose molto interessanti Zotti Photoshop e vari corsi ok grazie Tommaso grazie ragazzi mi ha allenato risposta alla domanda sì magico il corso di baccolo benissimo sì ragazzi ci guardo fatemi passare questi tre giorni teoricamente di festa in cui ho fatto le dirette e mi sono dedicato ad altre cose poi dopo vi rispondo anche alle email ragazzi ci vediamo domani qui alle 15 parliamo di color grading quindi domani incominciamo a prendere una foto completamente diversa e andiamo a lavorare sul grading delle foto quindi andiamo a capire come dare un tocco creativo finale anche molto pesante sulle immagini per ottenere dei risultati di qualità e lavoriamo su due ritratti sia domani che dopo domani quindi andiamo a lavorare proprio su quella tipologia di immagini ok ok buona giornata buon lavoro a tutti buon riposo anche ci vediamo domani alle 15 qua in diretta su fotografia professionale per parlare ancora di gestione del colore di correzione di grading di creatività e di tante altre cose ok 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 colore sul matrimonio va bene ci penseremo ciao ciao Nick mi raccomando seguite i video di Nicola Montanari e avete tutti i suoi videocorsi di ritratto in promo visto che parlavamo di ritratto ne parleremo anche domani e dopo domani ragazzi grazie mille per l'attenzione per il lavoro fatti insieme anche oggi ci vediamo domani alle 15 su fotografia professionale ciao e buona giornata